Sono 1.527 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono stati diagnosticati eseguendo 3.300 tamponi molecolari e 12.307 test antigenici. È risultato positivo il 9,78% dei campioni analizzati. I nuovi positivi hanno età compresa tra due mesi e 96 anni e provengono 276 dalla provincia dell'Aquila, 502 da quella di Chieti, 365 da quella di Pescara e 342 da quella di Teramo, 12 di fuori regione, mentre per 28 sono in corso accertamenti circa la provenienza. Il bilancio delle vittime sale a 2.705, 6 i decessi nelle ultime ore e riguardano persone di età compresa tra 64 e 91 anni, due residenti in provincia dell'Aquila, due in provincia di Chieti, una in provincia di Teramo e una di fuori regione. I ricoveri in area medica sono in crescita di 12 unità e arrivano a 398, oltre la soglia della zona arancione, dei 396 posti letto, corrispondenti al 30%. In calo di tre unità, quelli in terapia intensiva, sono 35, appena sotto la soglia del 20%, 36, della zona arancione. 723 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono appena al di sotto dei 70.000. Intanto, dopo il successo della open night vaccinale organizzata a Teramo lo scorso weekend, una serie di iniziative sono state programmate dalla ASL di Pescara. Una open night esclusivamente dedicata agli over 50 non ancora vaccinati si svolgerà questo giovedì dalle 20 alle 24. Per tutti gli ultracinquantenni che intendono ricevere la prima dose potranno farlo senza prenotazione recandosi dalle ore 20 alle 24 in uno degli hub vaccinali dell'azienda pescarese, stazione di Porta Nuova a Pescara, a Città Sant'Angelo, a Penne e a Scafa. Sabato 22 gennaio il centro vaccinale dell'ex stazione di Porta Nuova sarà interamente dedicato alla vaccinazione anti-covid pediatrica età 5-11 anni per la somministrazione delle prime dosi dalle ore 8.30 alle 19.30. Per partecipare alla giornata vaccinale occorre la prenotazione che sarà possibile sul portale di poste italiane dalle ore 9 di mercoledì 19 gennaio. Il minore dovrà essere accompagnato da almeno un genitore. Nei prossimi giorni, infine, si svolgeranno open day a Montesilvano, Nocciano, Picciano, Pianella, Bolognano, Villa Celiera e Cugnoli. Nocciano, Picciano, Pianella, Bolognano, Villa Celiera e Cugnoli.